Benissimo, allora ciao a tutti e benvenuti a questa sessione di domande e risposte su TRIPS. Potete fare qualsiasi domanda di qualsiasi livello, non preoccupatevi se può sembrare una domanda stupida, in realtà sono le domande migliori perché ci permettono di carire le basi, che sicuramente non sono ancora chiare. Io parto con un video di riscaldamento che vi fa vedere lo stato dell'arte di TRIPS. Allora, chi di voi ci segue da un paio d'anni sa che siamo partiti con nulla, in questi due anni è stato sviluppato un qualcosa che adesso vi faccio vedere. Premessa, non stiamo creando o costruendo un albergo a Londra, ci siamo trasferiti nel nuovo mondo, siamo a New York nei primi anni dell'ottocento e stiamo ancora aspettando che finiscano di fare le fognature, l'elettricità e tutto il resto, quindi stiamo creando qualcosa di nuovo in un ambiente nuovo. Di conseguenza quello che vedete oggi è il primo negozietto, il primo alberghetto, la prima locanda in una New York ancora da costruire. Per quello ci vuole tanto tempo. Quando sarà stabile, quando sarà sviluppata la New York, se vogliamo, la Nuova York, la New York poi diventerà più grande di Londra e sorpasserà Londra sotto tutti i punti di vista. Quindi questo è un po' il paragone che voglio farvi. Vedrete qualcosa di molto rudimentale ma già funzionante. Allora io lancio e vi faccio, ciao Adriano, vi faccio un, vi spiego cosa vedrete perché questo video è online, anzi magari ve lo condivido se volete vederlo con calma, vediamo se è questo, però è in inglese, quindi vi faccio il sottotitolo in italiano. No, non è questo. Va bene, ve lo metterò dopo magari. Allora partiamo. Questa è una prenotazione fatta in TRIPS, in realtà su Origin Protocol. Cos'è Origin Protocol? Dovete considerare che noi siamo in internet, sopra internet c'è la blockchain, sulla blockchain vanno fatti dei protocolli, vanno fatti dei software aperti per interagire con questo internet potenziato dalla blockchain e poi ci sarà TRIPS che avrà il suo sito, la sua app, eccetera, eccetera. Questa app che vi faccio vedere è fatta da Origin Protocol, i nostri partner californiani, che stanno creando i protocolli, quindi stanno facendo le fognature, l'elettricità, le strade, eccetera, ma hanno fatto anche di prova, di dimostrazione, un'app nella quale si possono fare le varie cose, comprare, vendere cose e anche prenotare appartamenti. Questo è un appartamento di Venezia di uno dei ragazzi che sta in TRIPS, Giovanni, che io ho prenotato, quindi c'è la prenotazione da parte mia di cliente e anche la sua risposta da parte di host, diciamo. Quindi vi faccio vedere, c'è questa app dove praticamente c'è le foto, c'è i prezzi, eccetera, eccetera. Vediamo se riesco a nascondere un po'. Quindi io da cliente guardo le foto, molto velocemente, c'è una mappa, c'è una descrizione. Vado a vedere il profilo del proprietario, che è stato verificato con Facebook e altri sistemi, guardo le disponibilità, gli si aprono dei calendari, seleziono in questo caso una prenotazione di tre notti, mi dà il prezzo, in questo caso i dollari, perché nell'app non l'ho settata in euro, ma è come in Airbnb, e qui posso pagare in quattro tipi di criptovalute, manca ancora la carta di credito, che verrà aggiunta in futuro, e in questo caso ho quattro criptovalute, che magari voi non conoscete, due di queste hanno la caratteristica di essere stablecoin. Lo fermo un attimo. Voi sapete che il problema delle criptovalute è che cambiano di prezzo continuamente, il famoso bitcoin, che oggi vale 5.000 euro, domani 10.000, poi 2.000, poi 20.000, eccetera. E crea un problema di volatilità. Ci sono già un paio, varie, in questo caso integrate nell'app, due criptovalute chiamate stablecoin, che valgono sempre un dollaro americano, e sono in questo caso la DAI e il Tether. Io in questo caso prenoto usando un'altra criptovaluta, che è Ethereum, perché quelli avevano il mio wallet, mi dà il totale, vedete i 200 dollari, corrispondono a 0,7 Ethereum, e faccio il pagamento. Faccio il pagamento, vado a confermare questo pagamento, che ha un costo, adesso qua si vede, ha un costo di 1,75 dollaro, cioè io per fare questo pagamento, pago una commissione, tra virgolette, una fee di 1,75 dollaro, non a Origin, non a Trips, ma al network Ethereum, ai miner, delle persone che tengono in piedi questo mega server mondiale, ok? Questo è l'unico costo associato a questa prenotazione. Una prenotazione parallela in Airbnb, di circa 200 dollari, costerebbe più o meno, alle due parti, 15, scusate, 30, 20-30 dollari, ok? Quindi dobbiamo paragonare i 20-30 dollari di Airbnb, o di Booking, al dollaro e 75 di 3, questo è l'unico costo associato a questa prenotazione specifica. Poi in Trips sviluppato più avanti, oddio, oddio, è partito l'audio, mi dispiace. Mi dispiace che si senta l'audio, perché l'ho tolto da qui, ma si sente lo stesso, quindi non mi si capisce. Allora vi faccio un'altra cosa, un attimo. Ah, si capisce, vado avanti, perché Marco l'ho già abbassato al minimo, e se c'è un po' di... vai, vado avanti, ok. In Trips, poi quando sarà pronto Trips, in realtà c'è anche un 5% di commissione, quindi insomma il costo totale sarà 5%. Passa, allora non so cosa abbassare, abbasserò questo, vai, forse va meglio così. Ok, ho pagato e... va bene così, si sente? Oh, c'è ancora il rumore di fondo? Oh, bene, grazie per avermi avvisato. Allora, cosa è successo qui? Qua c'è un po' il miracolo dell'internet, chiamiamolo il nuovo internet, no? Che io faccio un pagamento in criptovalute, quindi di mezzo non ci sono Paypal, Visa, banche, c'è nessuno, è da persona a persona. C'è un costo da pagare a tutte le altre persone che lo tengono in piedi, questi soldi, e qui il miracolo, non vanno all'host, io non mi fido dell'host, giusto? Mi fido, infatti uso Airbnb, uso Booking perché mi fido di loro. Vanno in uno smart contract, cos'è lo smart contract? È un programmino molto stupido che dice, ok, io i soldi li... Stupido nel senso che non è complicato, i soldi li tengo bloccati, si chiama escro questo concetto, quindi li tengo bloccati, il cliente li ha pagati ma non li può riprendere, l'host li ha visti pagati ma non li può prendere, sono tenuti in parte, ok? Quindi io cliente so che ho pagato, so che l'host non ce li ha in mano, quindi non può fare il furbo, l'host sa che io li ho pagati e che non li posso riprendere, per cui è tranquillo che i soldi sono stati pagati, e poi che succede? Poi si vedrà, ok? Andiamo avanti. Tutto questo avviene senza nessuna azienda di mezzo, né Trips, né Origin, né nessuno, ok? Ora, questo è l'atto host, quindi Giovanni va nella sua app, ha ricevuto una notifica, ha visto che c'è una richiesta di pronotazione, non è un direct booking, è una richiesta di pronotazione, ok? Vede un messaggio, anzi scusate, vede che c'è un'offerta in pratica, come come in Airbnb, quando in Airbnb arriva la richiesta, deve approvare e rifiutare, no? Decide di, vede il prezzo, che è quello che aveva inserito lui, accetta l'offerta, ok? Accetta l'offerta, non ha ricevuto ancora i soldi, ok, io cliente ricevo una notifica che l'offerta è stata accettata, e finisce lì, per il momento io ho, io cliente, ho pagato, i soldi sono bloccati nello smart contract, vado, in questo caso a Venezia, a dormire. Va tutto bene, poi rilasciare il denaro all'host, va tutto bene, vado a Venezia, l'appartamento va bene, sono contento e decido di rilasciare il denaro all'host, ok? Anticipo già la domanda, che c'è di solito. Ecco qua, poi sei sicuro di rilasciare i soldi, sono sicuro, sono in appartamento, va tutto bene, e li rilascio. A questo punto i soldi vengono rilasciati, su mia istruzione, dallo smart contract, all'host che li riceve, ok? La transazione è conclusa, poi non vi faccio vedere tutta la parte della recensione, ma posso lasciare una recensione, un attimo secondo che lo blocco da qualche parte, ok. Posso lasciare una recensione che però questa volta non è scritta nei server di Trips, come è scritta nei server di Airbnb, ma è scritta nella blockchain, quindi io Trips non ho controllo, Origin non ha controllo, nessuno ha controllo, è lì, è stata scritta, ok? Quindi anche se Trips decidesse di cacciare un host perché si comporta male, l'host delle sue recensioni se le tiene, perché appartengono a chi le ha scritte, a chi le ha fatte, cioè quindi al cliente che l'ha scritta e all'host che l'ha fatta, non appartengono a noi. Quindi quando tu sei un host che ha avuto mille recensioni con Trips e Trips decide di cacciarti, cazienza, ti ha cacciato, ma le recensioni sono lì e le puoi riutilizzare in mille altri siti come Trips, ok? E riprendere controllo dei propri asset, in particolare l'asset legato alla fiducia, che sono le recensioni. La stessa cosa vale per gli annunci, la stessa cosa vale per i clienti, ok? Non viene creata una censura tra cliente e host, ma è un contatto diretto dove il quale Trips non mette bocca perché non ha un interesse di tenere nascosti queste cose, ok? Ora, domanda, beh, infatti me l'aspettavo, e la domanda è quella che c'è sempre, che succede se il guest non rilascia i soldi perché fa il furbo? Oppure, che succede se la casa non va bene o c'è un problema e il guest dice non rilasciare i soldi. Entra in gioco una terza parte che si chiama panel. Cos'è il panel? Sono delle persone che fanno parte della community, quindi sono guest o host, gente che usa la piattaforma e ne trae beneficio, che viene selezionata dal software in maniera automatica, i primi che decidono di accaparrarsi questo caso, per poi guadagnarci anche dei soldi lavorandoci, fanno quello che fa il Trova Soluzione di Airbnb, solo che invece di avere una persona, ce ne sono cinque, e ognuno valuta questa problematica come la valuta l'impiegato di Airbnb, ognuno decide, legge i testi, guarda le foto, vede i video, interagisce con guest o host, si fa un'idea della problematica, come in un processo, no? E poi decide, vota, ci sono cinque voti, c'è una maggioranza, e si decide cosa fare con i soldi. Quindi si replica quello che già fa oggi la OTA, quindi la gestione delle controversie, però si distribuisce all'interno di chi poi usa la piattaforma. Perfetto, vado alle vostre domande, vedo che ce ne sono già tante. Allora, Adriano, c'è un CoinTrips, c'è un CoinTrips, l'abbiamo già emesso un paio di anni fa, oggi non è integrato ancora, verrà integrato più avanti quando avrà un valore di mercato, come i quattro coin che avevi visto, ci sarà anche quello Trips. L'accettazione è reversibile, una volta che è accettato non è più reversibile, come accade in Airbnb o come non accade in Booking dove non puoi nemmeno non accettare, ok? Adriano, ci vorrebbe un token simile al BAT, Basic Attention Token, che dà valore al buon comportamento dei guest e dell'host. Magari me la spieghi meglio, conosco il BAT di Brave, ovviamente, magari mi scrivi un po' meglio cosa intendi dire, poi vado alla domanda dopo di Andrea, che succede se la recensione è offensiva e contiene illegalità come insulti e cose simili. Allora, nella blockchain noi non abbiamo controllo su quello che viene scritto, perché non viene scritto ai nostri server, quindi c'è un trade-off di controllo. Tu rilasci il controllo per non essere parte, diciamo, troppo potente per mantenere equilibrio, allo stesso modo non hai controllo su quello che viene scritto. Quindi viene scritta una recensione magari offensiva, quella viene scritta sulla blockchain, viene scritta in internet per semplicità e noi non la possiamo cancellare, però come piattaforma possiamo decidere che quella recensione non venga fatta vedere nella nostra piattaforma, quindi sparisce dalla piattaforma. Questa decisione viene presa di nuovo come panel, quindi dagli utilizzatori della piattaforma. Quella recensione non è però cancellata, quindi un'altra OTA, sempre della blockchain, potrebbe dire io quella lì la faccio vedere perché ho interesse a farla vedere e tu, host, che dici quella lì non voglio che sia fatta vedere, non puoi dire che non venga fatta vedere, ma puoi tirarti fuori da quella piattaforma. Questo è un po' il concetto. Quindi abbiamo, come nella separazione tra Stato e Chiesa, che ha dato tanti privilegi in quasi tutto il mondo, tranne in Italia, dove non è completa, separiamo la OTA dalle recensioni, la OTA dagli annunci, ok? L'annuncio, la recensione sono miei, sono al di fuori del controllo delle OTA. La OTA ha un compito a mettere assieme gli annunci, farli vedere, portarmi i clienti, la OTA mi deve portare ai clienti, non mi deve tenere per il collo, ok? Quindi, che succederà quando si fa una separazione tra OTA e tutto il resto? Beh, si vedrà, la speranza è che ci sia maggiore controllo e maggiore sicurezza per gli host, che oggi sono in completa balia delle decisioni delle OTA, ok? Daniela, il panel è ristretto numericamente? Allora, intanto vi invito a leggere il white paper dove queste cose sono spiegate in maniera dettagliata e ovviamente non riusciremo a spiegare qui, quindi vi metto il link. Allora, il panel, sì, è a cinque persone, in realtà funziona così, chiunque può decidere di fare parte del panel perché ha un'app dove fa l'host o fa il ghiesto o fa entrambi, qualcuno dice io voglio fare anche il panel, quindi il giudice, e clicca un bottoncino e fa parte del panel. Metti che abbiamo cento panelist, avviene un problema, il software manderà la mail, una notifica magari a 50 di questi panelist scegliendo quelli migliori in valle e recensioni che hanno, scegliendone magari tre della città stessa nella quale c'è la problematica, scegliendo tre guest, due host o viceversa, cerca l'algoritmo di creare come dire, un panel che sia bilanciato, che abbia competenze, che abbia interessi diversi, quindi guest e host e chi sia in grado di decidere bene su questa problematica. I primi cinque, quindi c'è un discorso di velocità, i primi cinque che l'accettano, perché magari questi cinque sono al bar a bere un caffè e dicono beh oggi il suo tempo lo prendo, i primi cinque lo prendono e hanno 24 ore per giudicare la problematica interagendo anche con le due parti. Quindi le decisioni non vanno prese per unanimità, non devono mettersi d'accordo, ognuno decide in maniera indipendente, si possono confrontare, ma poi ognuno decide e funziona a votazione. Fate pure domande, adesso vado a cercare le domande che ho ricevuto via mail oggi, ne ho ricevute parecchie, quindi abbiamo abbastanza ciccia per giocarci, però fate pure domande, do ovviamente do priorità a chi è online, così. Quindi qualsiasi domanda, non specificatamente solo sulla prenotazione, ma in generale su TRIPS, anche le domande più basiche, mi raccomando. Allora, intanto che scrivete, vado a vedere la domanda di Antonella, Antonia, dice sono confusa, non ho domande perché non ci capisco niente praticamente, come fate a raggiungere i clienti, giusto domanda, la domanda peggiore che mi si può fare è sempre questa, come fate a raggiungere i clienti. Allora, in realtà, se andate nel white paper abbiamo varie risposte, io non vi rispondo a questa domanda adesso perché è lunghissima, la verità è che noi non sappiamo esattamente come raggiungeremo i clienti, qui stiamo facendo un passo precedente, stiamo creando una piattaforma oggettivamente migliore per tutti, tranne per la OTA, e poi una volta capito che è migliore verrà utilizzata più. Mi veniva in mente una metafora oggi sulla Ferrari contro la Tesla, quando la Ferrari era considerata la macchina migliore del mondo e arriva la Tesla che va su mercati diversi, com'è che la Tesla fa come dire o la Porsche, forse una cosa più simile, la Porsche e la Tesla, com'è che la Tesla poteva all'inizio dire andrò a scardinare la Porsche e andrò a convincere i clienti Porsche, non si preoccupa di quello, è in una piattaforma talmente diversa, talmente innovativa, talmente migliore, perché nel momento in cui nasce la Tesla la Porsche improvvisamente diventa una macchina che brucia succo di dinosauro e fa fumo, è una roba inconcepibile, nel momento in cui sei nel mondo Tesla tutte le macchine a benzina automaticamente si ritrovano nel passato, nella preistoria, è un po' lo stesso concetto, cerchiamo di fare una cosa che sia mille volte migliore delle OTA attuali che oggi sembrano il top, ma in realtà una volta che siamo in quel mondo lì improvvisamente diventano qualcosa di completamente fuori dal tempo e poi penseremo come trovare i clienti esattamente, ok? Poi non è che non ci abbiamo pensato, però è presto, non c'è ancora il prodotto, ok? Ci penseremo bene quando siamo lì, perché sarà cambiato tutto che avrebbe pensato che sarebbe arrivato il Covid-19 e i piani fatti prima sarebbero già saltati, questo voglio dire, quindi abbiamo già pensato a come raggiungere i clienti e trovate queste strategie nel white paper, però veramente lo faremo quando ci arriviamo, ok? Quando sarà pronto il prodotto? Vale, vale, anni, prima che sia veramente un prodotto competitivo, forse due, forse uno, forse tre, forse cinque, non lo sappiamo, perché abbiamo internet che è maturo, la blockchain che non è matura, i protocolli che non sono maturi e poi c'è il base trips, ok? Quindi si parla di qualcosa a lungo termine. In realtà la domanda quando sarà pronto il prodotto richiederebbe maggiore specificità, cosa vuol dire pronto? Perché pronto, è già pronto adesso, uno potrebbe prenotare in trips, ok? Non è pronto perché dici non c'è neanche l'integrazione con le calendari, aspettiamo che sia pronti i calendari, quando saranno pronti i calendari ci vorrebbe l'integrazione con i prezzi, aspettiamo anche quello con i channel manager, ok? Poi ci sarà un discorso che non sarà tanto usabile quanto una OTA attuale, quando è che è pronto un prodotto? In realtà non c'è una data specifica, cioè non c'è neanche una definizione di pronto, quello che posso dire è nella prima fase di trips il successo lo misuriamo non in aver ucciso Airbnb che non è nei nostri piani, ma nell'aver offerto agli host e property manager un'alternativa funzionante perché se cominciano ad arrivarti due o tre prenotazioni al mese da trips che rappresentano il tuo 5% delle prenotazioni, per noi quello è già un successo perché già hai un'alternativa e quindi già tutto il mercato, tutta l'industria ha messo, ha rotto un po' quella diga che ci spinge oggi delle OTA e possiamo andare a negoziare con le OTA in maniera indiretta perché se Bucchi in qualche mese fa ha deciso di mettere le commissioni anche sulle pulizie e l'ha fatto senza farsi nessun problema perché è balzato a mandare una mail dicendo guarda caro partner per migliorare la tua vita abbiamo deciso di aumentare di mettere le commissioni anche sulle pulizie domani magari di fronte a in una situazione nella quale c'è un'alternativa che sta funzionando e che l'host può spingere poi vi dirò anche come magari ci pensa due volte ok oggi prendono 18 domani magari causa Covid voglio arrivare a denti se abbiamo delle alternative come trips e ripeto trips non è un'alternativa ce ne saranno tante ecco che abbiamo già risolto un problema molto grosso abbiamo finalmente una voce e capacità negoziale ok e ho letto la domanda e mi sono distratto ok com'è che poi vi dico solo una cosa su come potremmo portare i clienti in trips nel momento in cui è abbastanza maturo e porta qualche pronotazione sarà talmente chiaro il vantaggio di ottenere pronotazioni da trips che a voi converrà cioè a voi all'host converrà a dire ok ma perché per esempio in altissima stagione devo per forza prendere pronotazioni da booking che mi costano un sacco di soldi chiudo le date in booking e costringo il cliente a venire via piattaforme come trips o via booking diretti ok quindi il cliente non avrà scelta a quel punto lì si tratterà solo dico solo tra virgolette perché è uno sforzo enorme informare il cliente della situazione però è diverso dire al cliente per piacere vieni di qua che è meglio per noi o risparmi 5% rispetto a dirgli guarda che se vuoi pronotare a luglio-agosto o a capodanno o qualsiasi sia il top term o qua o aspetti hai capito è molto diverso il concetto ora Claudio origin è un marketplace multicategoria fra le quali appunto c'è l'housing sì ci tengo a dirlo origin è un lo chiamano flagship app è per far vedere quello che si può fare non è un prodotto vero e proprio ok e domandi se trips avrà un'app specializzata l'obiettivo è arrivare ad avere un'app specifica trips ovviamente considera che il codice di origin è completamente aperto per cui noi basterà prenderlo quando è maturo e stabile lo prendiamo eliminiamo le categorie che non ci interessano sviluppiamo quelle cose che mancano o mancheranno e abbiamo l'app specifica trips app sito ok l'obiettivo ovviamente è dare al cliente un'app dove trova solo quello che c'è in trips ovviamente Adriano che ovviamente evidentemente è molto come dire preparato sull'argomento dice che la DAO poi quindi vi spiego cos'è la DAO lo vedo sempre in uno strumento troppo scuro come sarà gestito l'accesso alla DAO saranno pubblici i nomi dei componenti allora cos'è la DAO la DAO è l'acronimo di Decentralized Autonomous Organization quindi Organizzazione Autonoma Decentralizzata quindi un'alternativa alla struttura classica dell'azienda che è gerarchica barra piramidale è piatta è come un'azienda quindi è un ente fatto di persone che riesce a mettere insieme le energie il denaro e gli obiettivi delle persone e riesce a raggiungere le decisioni non in maniera gerarchica ma in maniera piatta ok l'unica DAO che io posso sentirmi dire cioè sentirmi l'unica DAO che esiste secondo me oggi funzionante è il Bitcoin Bitcoin è una DAO ok non ci sono direttori non c'è un'azienda ci sono solo persone tutte uguali tra virgolette che interagiscono con questo ecosistema che assieme riesce a creare questa cosa il passo successivo delle DAO sarebbero delle cose simili per gestire cose più complesse come può essere una piattaforma ok siamo ad anni dalla realizzazione di una DAO veramente efficace ok di tutto quello che facciamo noi è quella più lontana anche se forse è la più affascinante ok non per nulla abbiamo aperto un'azienda Trip Community che fa e gestirà questa cosa per un certo periodo in maniera aziendale le decisioni verranno prese in maniera aziendale quindi in maniera se vogliamo trasparente anche se poi l'azienda non è che sia trasparente ma in maniera classica diciamo ok se e quando i software e l'ecosistema delle criptovalute permetterà delle DAO veramente efficaci diventeremo una DAO probabilmente ci sarà un periodo di passaggio nel quale alcune decisioni verranno prese in maniera DAO per esempio noi ogni tanto rilasciamo dei TRIPS a chi ha lavorato a TRIPS oggi decido io mi piacerebbe nei prossimi mesi che la decisione di quanti TRIPS vanno a Tizio e quanti TRIPS vanno a Caio fosse indipendente da me e fosse presa in maniera decentralizzata dalla community attraverso una DAO ok TRIPS sarà open source e potremo partecipare allo sviluppo sì tutto il codice che tu vedi cioè tutto il codice che fa girare quella prenotazione che ti ho fatto vedere è già open source è già in GitHub puoi già partecipare allo sviluppo ok nel momento in cui noi giudicheremo che il codice quindi l'infrastruttura di questa nuova York è sufficientemente quindi non ci sono più strade di fango ma sono strade di asfalto possiamo quindi costruirci sopra un bel albergo quindi TRIPS andremo a sviluppare anche noi in maniera aperta e chiunque potrà partecipare se vuoi già partecipare a questo codice lo puoi fare da domani mattina ok vai ad aiutare Origin a sviluppare una domanda di Andrea se TRIPS è funzionante al 100% o di sviluppo allora quello che hai visto nel video è funzionante al 100% però non è un prodotto sufficientemente maturo per farlo utilizzare le persone alla maggior parte delle persone quindi mancano un sacco di funzionalità per esempio mancano l'integrazione con i calendari e i prezzi ok manca l'integrazione con carte di credito eccetera eccetera manca un sacco di roba allora sempre Adriano le OTA si basano sui big data per offrire la visualizzazione e l'ottimizzazione organica qui sono previsti i meccanismi di ottimizzazione della visualizzazione delle strutture e la privacy oppure la prevalenza della struttura su un'altra come sarà regolata allora tu stai parlando dell'algoritmo di ricerca se ho capito bene nel quale quando io faccio una ricerca su Milano per delle date ci sono 100 appartamenti disponibili ma vengono messi in un ordine per cui i primi 10 sono quelli che otterranno più visualizzazioni questo è un algoritmo normalissimo se vogliamo devo ammettere che non abbiamo approfondito molto questo aspetto io già nel 2005 più o meno ho sviluppato i primi algoritmi di ricerca nel mio portale quello pre Airbnb quindi cosa avevo fatto avevo messo vari parametri ma avevo primi quelli con le migliori recensioni con quelli col calendario più fresco eccetera eccetera quindi cercavo di ottimizzare di mettere in alto gli appartamenti migliori per quello specifico cliente in maniera molto 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 grezza però questo l'ho fatto io che manco quasi non sono per un po' ho fatto il programmatore ma c'è Marco qui che ascolta quindi se vede il mio codice mi picchia e poi ne parliamo però l'ho fatto ora fare un algoritmo di ricerca non è difficilissimo ok se il tuo scopo è dare visibilità agli appartamenti migliori lo puoi si fa ce ne sono gli algoritmi la tecnologia sta sviluppando sempre di più quindi lo possiamo fare tranquillamente la grande differenza rispetto a una OTA è che la OTA ottimizza per le sue tasche quando tu vai in booking e ti fa vedere un albergo non è l'albergo migliore per te è l'albergo migliore per booking magari perché ha aderito alla funzionalità che mi pare si chiama i boost dove invece del 18 o del 15 paga il 30% quindi stai prenotando un albergo dove il 30% di quello che paghi va a booking non è nel tuo interesse perché poi l'albergatore con il 70% ci deve pagare tutto capisci che nel momento in cui abbiamo allineato l'interesse degli utilizzatori e non c'è una terza parte che estrae il valore quell'algoritmo non ha più bisogno di ottimizzare per il guadagno della OTA ma deve ottimizzare per come dire la felicità della soddisfazione degli utenti stessi non voglio semplificare sono comunque programmi molto complicati e che bisogna ottimizzare al massimo perché se poi sbagli metti gli appartamenti sbagliati non prenotano eccetera però non è questa non è la parte difficile del progetto TRIPS questa è la parte classica se vogliamo con trasparenza anche qui questo è tutto da discutere perché trasparenza non lo so quanta ne puoi dare in un algoritmo di ricerca perché nel momento in cui tu dai trasparenza è spammabile quindi forse quella parte lì non potrà essere molto trasparente è tutto da definire ok era codice quello non l'hai mai visto Marco non parlare allora vale quante persone fanno parte attualmente della community la community è un agglomerato molto indefinito perché non c'è un momento nel quale tu definisci che sei parte della community ok se tu adesso entri per esempio in Discord che è uno dei luoghi dove noi lavoriamo e cominci a contribuire magari anche solo discutendo sei parte della community sei un po' lontana dal centro se invece cominci a lavorare e ottenere dei trips ti stai avvicinando quindi la domanda è difficile abbiamo per esempio finora più o meno 90 persone che hanno contribuito in un modo o nell'altro a trips e hanno guadagnato dei trips questa è la community più vicina ci sono forse 15-20 persone che sono molto più vicine perché quasi quotidianamente tanti quotidianamente alcuni un po' meno contribuiscono ok abbiamo circa un migliaio di persone in mailing list riusciamo a raggiungere qualche migliaio di persone scusa nella mailing list specifica di trips circa un migliaio poi in mailing list totale più o meno 20.000 ok è molto vago come concetto la community puoi entrare uscire in qualsiasi momento se collabori ottieni questi trips e se trips diventa un progetto di successo anche se hai collaborato per un mese e hai guadagnato mille trips se quelli poi vanno sul mercato e acquisiscono valore tu hai già guadagnato qualcosa non devi entrare come dovresti entrare in una start up e quindi farne parte acquisire quote eccetera non c'è bisogno è molto più liquido del tutto entri collabori dai un valore aggiunto ottieni trips e se poi questo progetto ha successo tu hai già avuto un tuo rientro anche economico il progetto trips prevederà anche l'uso di carte di credito tra virgolette purtroppo perché nel momento in cui tu fai entrare in un progetto dell'internet 3.0 del mondo delle criptovalute la benzina del succo di dinosauro dei soldi degli euro si inquina un po' tutto perché si complica tutto si riesce comunque a farle interagire ma è veramente come mettere la benzina in una Tesla si fa perché purtroppo non ci sono ancora i benzinai non ci sono ancora i luoghi di ricarica elettrica si dovrà fare bisognerà fare l'ibrido come ha fatto per qualche anno la Hyundai l'ibrido poi però dove veramente spacca è quando non tocchi più sta robaccia degli euro e lavori solo su moneta nativa di internet il problema qual è? che gli euro i dollari o tutte le altre valute sono monete pre internet sono state incastrate in internet anche le carte di credito stesse sono un'aberrazione perché nascono in un mondo dove internet non esisteva quando è arrivato internet si è un po' adattato ma se vai a vedere come funziona indietro è veramente aver messo due cose insieme che non ci stanno poi si è riusciti perché come sempre se hai un obiettivo e ne hai bisogno riesci a farle funzionare ma chi veramente conosce come funzionano le carte di credito e come funzionano le cripto ti dirà subito le cripto sono pensate per internet quindi nel giro di qualche tempo che può essere 5 anni 50 anni non lo so si elimineranno completamente le monete classiche perché non sono compatibili con internet carte di credito intende utilizzo di valute come euro dollari sì almeno finché la maggior parte delle persone non avrà fatto il salto alle criptovalute che non è prevedibile sapere quando avverrà è un salto facile tra virgolette cioè è ancora un po' difficile giocare con le criptovalute però non è una cosa complicatissima basta volerlo tra qualche anno sarà molto più facile per esempio se facebook fa la sua pseudo criptovaluta diventerà in un attimo di uso comune il concetto di wallet abbiamo risolto il problema e trips non dovete vederla come una cosa che costruiamo noi e andiamo dritti è più una serie di blocchi che si stanno avvicinando e quando fanno come transformer hai una cosa nuova una piccola parte di questi blocchi dipende da noi ok sistema cripto un corso non viene in mente nessun sito perché sono cambiati tanti beh guarda se vai in internet trovi un sacco di roba Nina la cosa migliore a mio avviso è intanto se dovete imparare le cripto non andate a comprare non fate speculazione ok guarda fate così se vuoi imparare le cripto forse la cosa migliore a breve termine fai il modulo di Alessandro questo dell'indagine e poi segui tutte le istruzioni per richiedere delle cripto ti mandiamo dei trips non spendi soldi non rischi soldi ok e ti diamo una mano se hai bisogno di supporto forse questa è la cosa migliore sempre sull'algoritmo di ricerca Adriano credo che l'algoritmo devono essere inserite delle variabili relative alle molteplici qualità fisiche delle strutture e a quelle della qualità del servizio che remunerino le strutture stesse non le OTA per essere davvero stimolo alla qualità piuttosto che al profitto sulla commissione è stato pensato una cosa di simile no non siamo arrivati a quel livello di granularità però per farti capire come funziona trips se tu vai nel white paper adesso e hai trovato in questa tua domanda una parte poco sviluppata tu puoi scrivere una proposta di gestione dell'algoritmo di ricerca la sottoponi alla community se è fatta bene la mettiamo nel white paper oppure la discutiamo e assieme si trova una quadra e la aggiungiamo al white paper ok e per fare questo cos'è che devi portare sul piatto qualcosa di fatto bene tutto lì quindi 50 righe scritte bene pensate bene sembra che tu abbia anche le competenze e andiamo a farlo noi stiamo per iniziare devo ancora parlarne con la community ma secondo me è un momento buono una nuova versione del white paper nella quale ci confrontiamo con persone anche di fuori dell'Italia perché adesso la gente veramente ha voglia di un'alternativa questo white paper l'abbiamo scritto due anni fa ci avevo messo 3-4 mesi in qualche decina di persone sono cambiate le condizioni c'è più interesse riscriviamolo cioè miglioriamolo questo dell'algoritmo di ricerca è una cosa poco sviluppata facciamola assieme quindi ti invito se hai voglia a lavorarci assieme ok e lo puoi fare andando nel sito Trips Community sotto troverai un link a Discord entri e cominciamo a parlarne ha senso Adriano questa cosa? quindi non è piramidale non devi arrivare al top non devi conoscere persone giuste o convincere me eccetera entri metti sul piatto una cosa di valore e la community riesce ad assorbirla e anche a digerirla e eventualmente a migliorarla Marco non mi fa fare sempre il fatto di ignorante cos'è l'RFC inizio di internet fai apposta queste domande è vero? per denigrarmi no Marco è un amico ed è un ingegnere super tecnico bravissimo per cui ah Usenet io non c'ero ancora Usenet ah request for comment si si è un po' come in Github è un open source entri non è che vieni quando devi aiutare a sviluppare per chi non lo sa i software open source per esempio Linux sul quale poi si basano tutti i nostri Android non è che vai lì e dici con chi devo parlare per fare una proposta di cambiare no cioè è tutto lì arrivi scrivi del codice fatto bene se è fatto bene ti viene viene aggiunto nel codice e diventa parte del codice generale la RFC la request for comment invece è parliamo di questa cosa è un po' precedente suppongo la scrittura del codice ok perfetto bene Adriano allora parliamo in Discord allora vediamo altre domande c'è una domanda sempre delle mail di Cristina i costi noi in Trips e trovate anche questa cosa nel white paper abbiamo deciso di provare col 5% di commissione totale ok magari sbagliamo abbiamo bisogno del 10 e lì purtroppo dovremmo salire a 10 però se vediamo che il 5 è più che sufficiente e ce la caviamo col 3 noi andiamo giù al 3 perché l'obiettivo nostro non è aumentare la commissione l'obiettivo nostro è diminuirla tanto è tutta la commissione ok non c'è un'azienda dietro che con le commissioni ci fa cassa e poi distribuisce agli investitori non è che non funziona così tutto viene reinvestito allora ti metto il link a Discord Alessandro così vedi cos'è Discord è il nostro forum dove lavoriamo ok se tu clicchi qua entri e vedi e vedi cos'è insomma è una specie di Slack è come se fosse una serie di gruppi Whatsapp insomma è un posto dove si discute ok altra domanda delle mail mentre scrivete vabbè domanda sulle criptovalute come si converte in euro se hai delle criptovalute se hai dei bitcoin vai in un sito le vendi e compri gli euro è una cosa molto semplice ok e c'è una domanda di Daniela che dice io sono host super host con Airbnb che ha chiesto l'esclusiva come viene considerato Trips da Airbnb non viene considerato quindi credo che se tu sei super host in in Trips in Airbnb e ti buti in Trips per un po' non succede niente nel momento in cui Trips comincia a rompere le scatole ti diranno no però è prematura un po' come domanda che allora Daniela allora anche qui domanda ottima ovviamente ma se tutto viene reinvestito Trips non guadagna allora tu devi considerare che hai anche qui separazione delle cose tu hai Airbnb che è piattaforma ha tutti i tuoi dati mi ti apri il collo ed è azienda è tutto messo insieme Trips separa tutto tu hai la piattaforma che è il software quello che usiamo ok è una cosa poi hai un'azienda Trips che è separata dalla piattaforma nel senso che non è lì cioè l'azienda Trips non ha lanciato una piattaforma per guadagnare ok lo scopo finale non è quello l'azienda Trips è nata per lanciare la piattaforma se riusciamo a rendere la piattaforma indipendente l'azienda Trips chiude o rimane piccolina è un po' come chi ha lanciato internet non ha aperto un'azienda creiamo internet e poi prendiamo le commissioni su internet è nata come uno sviluppo collettivo ma c'era una fondazione c'è ancora una fondazione di internet che però non ha più nessun controllo su internet stessa ed è questo il potere di internet perché tu ti puoi puoi fare delle cose su internet senza chiedere permesso a nessuno e non esiste il bottone rosso per spegnerlo Trips è lo stesso concetto ok quindi è come dire è l'internet delle OTA deve funzionare avrà successo secondo i nostri parametri se diventerà una cosa indipendente che io non posso spegnere tu non puoi spegnere nessuno può spegnere non c'è un'azienda che acquisisce che ci guadagna sopra ed è completamente indipendente dov'è il profitto perché non è una cosa socialista che si fa solo per creare un'infrastruttura che vada bene a tutti c'è un guadagno e il guadagno è però in tutti i singoli e questo è il concetto di tokenizzazione che adesso magari non ti spiego perché è lungo però se cerchi tokenizzazione dovresti trovare dei dati di base è come se fossimo tutti azionisti dal primo giorno in proporzione a quanto ci abbiamo lavorato l'azione è il token TRIPS che quando il mercato decide che ha un prezzo che ha un valore quel token che tu hai che io non posso che ti ho dato non posso riprendere rappresenta il valore che tu puoi spendere trasformandolo in magari euro o spendendolo per prenotare e quindi ti sei garantita una fetta della diciamo della piattaforma non solo se poi riusciamo a fare bene questa DAO hai anche la possibilità di decidere di prendere decisioni proporzionalmente a quanti TRIPS hai perché danno anche dei diritti di voto guarda tokenizzazione ok quindi TRIPS come azienda non guadagna guadagniamo tutti noi che ci lavoriamo e Gianni sei arrivato un po' tardi forse comunque quando partirà alla grande dicevo non si può sapere quando sono tanti pezzi che devono mettersi mettersi assieme sicuramente si sta accelerando molto e questa prenotazione che vi ho fatto vedere all'inizio prova il fatto che si sta muovendo molto velocemente relativamente velocemente tutto l'ecosistema è un ecosistema che si sta creando ha fatto questa metafora di New York quando sono andati la gente è emigrata negli Stati Uniti prima di fare New York prima di fare gli alberghi ha dovuto fare le infrastrutture siamo ancora in fase di infrastruttura abbastanza avanzata ma non ci siamo ancora vado ad un'altra domanda delle mail voi fate pure domande anche molto basiche non preoccupatevi sì mi chiedeva come entrare in Trips io vi consiglio se volete già giocare un po' caricare veramente il vostro primo annuncio in Trips in Origin sulla blockchain chiamiamolo come vogliamo c'è semplicemente da seguire questo link vi consiglio dallo smartphone dove è molto più facile dal computer si complica perché vi dichiederà di avere criptovalute invece se lo fate dall'app è gratuito quindi paga Origin diciamo le transazioni le fee di transazione ok e c'è un'altra domanda di Daniela che domanda delle tasse ok qui non ti rispondo perché è molto in divenire se accetti euro se quando ci sarà l'integrazione di carte di credito tu accetti euro è normale come un qualsiasi incasso in euro se accetti invece criptovalute dovrai rifarti quando succede alla legislazione dell'epoca del momento oggi ci sono degli esempi in Italia per esempio c'è una zona vicino al lago di Garda che si chiama Robberetto dove tantissimi negozi accettano bitcoin e loro dichiarano il valore in euro quindi ti pagano io ho preso una birra lì l'ho pagata non so 5 euro lo scontrino me l'ha fatto per 5 euro poi l'ho pagato in bitcoin e poi quello che fa lui dopo o li cambia subito e quindi è a posto o li mette via eventualmente pagherà una plus valenza se vanno su però anche lì dipende un po' come non c'è una legislazione chiara in Italia e quindi al momento la cosa migliore al momento non avrai pronotazioni in cripto quindi non si pone il problema però al momento se te le tieni e non le cambi dovresti non avere nessun problema se invece le cambi subito probabilmente dichiarando il valore in euro hai fatto tu hai incassato il valore di 100 euro dichiari 100 euro paghi l'iva quello che c'è insomma la seconda della transazione della quale si parla e dovresti essere a posto ripeto dovresti perché non c'è una legislazione sulle criptovalute chiara in Italia oggi ok però ci sono tante persone che le usano aziende che le usano apertamente e quindi si può fare ecco benissimo qualche altra domanda anche molto semplice su qualsiasi aspetto vi do anche il link al white paper diretto perché lì vi ho dato il link alla pagina che riassume e quindi qua invece c'è il Google Doc allora Alvise ciao Alvise allora scusa ho letto e poi adesso leggo altra voce recensioni più che la percentuale alle otta quello che mi dà fastidio come gestore è la difesa che le otta fanno nei confronti dell'host e delle recensioni se inizialmente la recensione aveva un senso come strumento per premiare la tua struttura adesso con le otta è diventato uno strumento coercitivo allora qui non stai dicendo che è il cliente che usa la recensione come strumento coercitivo ma la otta stessa che ti dice lavora come dico io fammi capire un po' meglio magari in che senso è coercitivo da parte delle otta perché sei sempre sotto scacco perché se prendi una brutta recensione non l'ospite è troppo potere ok allora sì allora questo è un discorso molto interessante un errore è da vent'anni o più che si parla di otta fatta dagli albergatori otta fatta dai gestori di appartamenti eccetera eccetera è da vent'anni che falliscono questi progetti perché falliscono perché una otta fatta ok una piattaforma di prenotazione un marketplace fatto da una delle due parti non ha speranze di sopravvivere perché se tu vedi questo marketplace che quindi è l'incontro di domanda ed offerta solo dal punto di vista di chi vende chi compra se ne sta alla larga giustamente quindi non può Trips avere solo la visione di chi vende ok dobbiamo avere anche la visione di chi compra quindi abbiamo bisogno infatti Trips abbiamo cercato di attirare e qualcuno ne abbiamo anche i guest anche chi non fa l'host sto facendo un giro largo al vise arrivo perché la la differenza si farà nell'equilibrio il cliente l'ospite deve sentirsi protetto tanto quanto si deve sentire protetto l'host o il property manager ok ora le recensioni le recensioni sono uno strumento coercitivo da parte del cliente secondo me se l'host si fa allora se se l'ota non è obiettiva ok perché all'inizio in Airbnb tu non sentivi le recensioni come una cosa negativa ma non perché i clienti fossero più buoni e lo erano all'inizio ma perché la OTA era più della parte nostra ok Airbnb era più della parte del lost all'inizio se ricordi poi si è spostata piano piano dalla parte del guest e siccome il cliente può usare le recensioni come e lo può fare comunque come strumento coercitivo non senti più non ti senti più difeso da Airbnb ok è lì che diventa coercitivo perché Airbnb non è più imparziale come era all'inizio ok come è stato per un periodo perché all'inizio era secondo me imparziale ma era a favore degli host quindi nel momento in cui una persona fa una recensione in TRIPS e fa una recensione ingiusta ok come si comporta TRIPS allora intanto un concetto di base che secondo me questa è la mia visione però uno su cento ti arriva la recensione negativa che è statistico il cliente pazzo c'è sempre su cento recensioni ottime e quella negativa secondo me non dovrebbe pesare più di tanto quindi nell'algoritmo parlavamo nell'algoritmo di TRIPS che decide chi arriva primo nel ritmo di ranking quando vedi una recensione negativa su cento positive probabilmente non devi dargli peso dovremmo dare come dire una franchigia di una recensione negativa ogni cento che viene completamente ignorata perché se mai fatto 99 recensioni perfette e una negativa è più probabile che sia il cliente che ha sbagliato o magari è sbagliato ma capita una volta no? ok quindi già qui capisci che TRIPS vuole essere più giusto nei confronti del lost rispetto ad Airbnb noi non sappiamo però se Airbnb o Booking fanno lo stesso ragionamento magari lo fanno magari ci spaventiamo per niente ok quindi non vorrei neanche accusarle di fare cose che non posso provare che fanno l'altra cosa è che questo tipo di decisioni non è che le prendo io le prenderemo assieme ok in questa fase le prendiamo le discutiamo assieme e qualcuno deve fare il sunto e lo faccio io ma in una fase più avanzata sarà la community a decidere i pesi vari degli algoritmi ok va bene quindi il problema dell'ospite che approfitta delle recensioni è perché ha troppo potere il problema dell'ospite è che ha troppo potere perché le OTA sono affamate di ospiti e in questa fase non se ne possono fregarvi meno degli ost e questo l'hanno provato con le decisioni che hanno preso in maniera avventata e tra virgolette suicida secondo me con quello che è successo con le cancellazioni del Covid-19 ok quindi hanno perso il loro equilibrio di conseguenza ne soffriranno in futuro non so se siete d'accordo su questa lettura altra cosa se a un certo punto Trips diventa troppo a favore dell'ospite dovete sapere che ci sono il codice è aperto ok quindi chiunque può prendere questo codice e fare una alternativa a Trips e noi speriamo che ce ne siano 10, 100, 1000 le alternative quindi non spendo una lira di codice ha esattamente il codice di Trips contatta tutti gli host proponendo di entrare in Trips e gli host non devono ricaricare gli appartamenti sono già lì sono già nella blockchain dicono solo va bene Trips non può fare niente quindi da un giorno all'altro hai un clone di Trips che ha gli stessi appartamenti tanto all'host che se ne importa in una o due piattaforme non ha nessuno sforzo non deve sincronizzare i calendari è tutto centralizzato nel suo annuncio hai un clone che dice noi siamo esattamente come Trips però quell'algoritmo lo gestiamo in maniera diversa quindi nessuno è bloccato dentro Trips per definizione dall'inizio e questa non è una scelta o una concessione che facciamo noi è strutturale architetturale noi non abbiamo controllo dal primo giorno se tu adesso carichi un appartamento in Trips quelle foto ma sai dove vanno? non vanno nei nostri server vanno in un sistema che si chiama IPFS vanno in internet e solo tu puoi cancellare quella foto io non la posso cancellare ok? stessa cosa per i testi stessa cosa per i prezzi stessa cosa per i calendari stessa cosa per le recensioni ok? quindi noi partiamo già senza potere sugli annunci capite come cambia completamente il concetto? ok? quindi non è paragonabile quello che andremo a fare a noi a quello che fanno le OTA oggi vedo che sta scrivendo Adriano e poi penso che possiamo concludere se non avete altre domande perché abbiamo raggiunto quasi l'ora non ho fretta se arrivano domande vado tranquillamente avanti quindi mentre scrivete è difficile il prevedere in che direzione andranno le cose per esempio recentemente mi sono reso conto che forse non è detto che per forza Trips diventerà una OTA come Airbnb o come Booking quindi un dominio dove tu vai a prenotare perché forse tutti i siti singoli è un po' complicato però io posso avere un sito con i miei 10 appartamenti e nessuno prenota perché non si fidano non vogliono ma darmi i soldi le recensioni non ci sono ci sono solo i testimonial perfetti eccetera vado in Airbnb e invio a Booking e mi fido prendendo questi pezzi di blockchain io posso nel mio sito mettere lo smart contract per prenotare dove i soldi non vanno a me ma nello smart contract dove se c'è un problema entra il panel quindi ho risolto il problema della fiducia di pagamenti posso fare l'embedding delle recensioni che però quindi a questo punto sono credibili perché non sono gestite da me ma dal blockchain può darsi che nel futuro invece di prenotare in un sito si prenoteranno i siti delle persone che tanto hanno la stessa sicurezza e qualità anche di prenotazione perché quello è il codice della OTA può darsi non lo so voglio dire è molto difficile prevedere in che direzione si va noi siamo partiti anche forse per pigrizia facciamo un Airbnb alternativo ma forse già il modello OTA non avrà senso tra 5 e 10 anni non lo so secondo me sì però mi tengo aperto di mente insomma allora Adriano il link in alto Alessandro è un'indagine conoscitiva della community trips se clicchi e la riempi ci vogliono 6-7 minuti poi puoi richiedere 50 trips in regalo tra l'altro quando chiudiamo questo webinar vi verrà presentata questa pagina quindi se non l'avete fatto vi invito a partecipare è per conoscerci meglio tutti è anonima non vi chiediamo email, nomine, niente è per capire meglio chi è chi è trips la sta facendo Alessandro che è uno statistico di formazione anche di professione in passato oggi host e quindi insomma mi invito a farla allora Adriano Adriano aveva messo un portale di pronotazione molto tempo fa anno 2000 poco prima di Airbnb pensando di fare una cosa molto simile con zero budget il vero problema di questi strumenti che volevo risolvere è la documentazione reale delle strutture senza trucchetti e tale che sia veritiere in modo che l'ossi è comunque stimolato a dare un servizio impeccabile visto dal punto di vista del guest quindi questo è il centro di questi strumenti anche nelle OTA attuali quindi è questo il centro di questi strumenti anche nelle OTA attuali c'è questo c'è un punto che non ho visto anche nelle OTA attuali c'è questo problema di servizio non efficiente che genera le recensioni spesso negative dai un'occhiata al white paper perché noi abbiamo deciso in trips di non lasciare aperta la porta a tutti tu carichi il tuo annuncio e viene approvato di nuovo dal panel quindi da noi e se sotto certi livelli o se mette informazioni che riusciamo a verificare come non veritiere non viene accettato se invece un problema di competenza dell'host viene aiutato a migliorare possiamo anche prevedere se ne è parlato di alcuni host locali che vanno fisicamente a vedere questo appartamento magari pagati dall'host che vuole entrare che gli fa un servizio gli fa un servizio anche di miglioramento dell'appartamento quanta gente entra a tenere di allo sbaraglio e non ha idea di nulla ecco la community potrebbe decidere sotto incentivo di dare una mano a migliorare l'appartamento stesso ma anche di dire ok certi appartamenti io host nuovo posso tirare fuori 100 euro per essere verificato a chi vanno questi 100 euro alla persona della community che viene a visitare non a trips e quindi alcuni appartamenti sono verificati in maniera superiore quindi dobbiamo trovare assieme i modi migliori che abbiano più senso per dare più sicurezza a tutti ok le otta invece hanno adottato un altro sistema se ci pensate cosa hanno fatto le otta hanno detto io faccio caricare cani e porci e chi farà il lavoro di selezione sarà il cliente quindi il cliente che per notte un appartamento per la prima volta mai recensito sta facendo da tester se va male lascerà una brutta recensione si è rovinato le vacanze e ha fornito gratuitamente a Airbnb o Booking o un'altra otta un'analisi un test di questo di questo appartamento quindi ha delegato ha detto andate a farvi male voi e poi fateci sapere come va molto come dire ottima come strategia dal punto di vista della otta però forse non tanto giusta nei confronti dei clienti ai clienti poteva scegliere appartamenti recensiti però i primi non erano comunque quindi capite che una volta che abbiamo rimosso una terza parte che è lì per creare un marketplace e poi estrarne il massimo possibile e abbiamo allineato gli interessi delle parti ogni problema ogni specifica diciamo problematica della creazione della piattaforma cambia viene gestita diversamente e dobbiamo inventarci tutto ovviamente ok ti dirò io quando avevo lanciato in Italia Adormo che era il sistema tipo l'Airbnb diciamo noi avevamo i manager locali che andavano a vedere gli appartamenti e li segnavano come verificati quindi questo concetto che tu esprimi Adriano siamo d'accordissimo insomma e non era difficile in una città tirar su un sacco di appartamenti verificati chiaro che costava di più che non verificarli però davamo una garanzia ok ora il Airbnb e il booking danno questa garanzia attraverso un numero alto di recensioni funziona è vero che qualcuno però sacrifica sacrifici la propria ferie in certo senso ok vedo che sta scrivendo Daniela bene siamo prof Daniela sì giustamente questa verifica è un po' come il Airbnb Plus che quindi fa l'investimento solo su appartamenti dove ne va la pena giustamente perché farlo su tutti rischierebbe di costare troppo e di non essere diciamo di rendere di aumentare troppo i costi chi verifica e chi verifica è tutta una cosa da decidere credo che la cosa migliore sia dare la possibilità di fare le verifiche a persone che sono già nella community da parecchio e hanno ottime recensioni come host o come guest che quindi hanno una certa credibilità e un interesse a non bruciarsela che è lo stesso motivo per il quale quando tu hai 100 recensioni ottime e arriva un cliente anche come dire malintenzionato fai di tutto pur di renderlo contento perché se no ti bruci la tua reputazione che ha un valore immenso lo stesso concetto ok quindi verifica chi verifica perché è accountable chi va a fare la verifica sarà accountable con le recensioni ok questa è un'idea anche qua siamo già a livelli non abbiamo deciso di fare queste verifiche ancora sono cose potenziali ok ed è tutto da decidere assieme insomma all'inizio quello che faremo visto che non siamo nel 2008 o prima nel quale la gente non era in Airbnb o booking la gente è già nei portali si è già fatta una reputazione quella reputazione la può spendere in trips perché verrà in trips avrà tu sei plus per esempio se sei plus vuol dire che lavori bene c'è poco da fare e quindi entrerai senza problemi ok non c'è neanche bisogno della verifica in quel caso lì bene ho concluso se avete altre domande fatele pure via mail dopo adesso vi arriverà quando chiudiamo vi arriverà questa pagina se volete riempirla grazie niente vi ringrazio per aver partecipato e alla prossima grazie a tutti ciao